Musica Bentornato Goodyear, bentornata Andiamo a vedere ora come regarti al tuo ufficio postale Infatti dovremmo vedere cos'è la posta elettronica Di norma la posta cartacea arriva più o meno ogni giorno La posta elettronica è la rappresentazione digitale di lettere o cartoline Più volte al giorno, se vai a consultare il tuo account, il tuo profilo Potresti trovare dei messaggi più o meno utili I quali saranno scaturiti dalle tue iscrizioni presso i vari siti e i vari servizi Ma anche da un eventuale uso illecito che altre persone possono eseguire Nei confronti di indirizzi email I quali producono spam, phishing e malware in genere La posta elettronica è comoda, rapida ed efficace Permette contatti che altrimenti possono risultare lontani nel tempo Tra un invio ed una risposta Ed è una straordinaria invenzione del mondo informatico Che ha migliorato senz'altro la comunicazione tra amici e conoscenti Soprattutto se sono distanti E anche la relazione con le aziende Accorciando tra l'altro, come dicevo, i tempi e le distanze E anche dando un tocco di umanità in alcuni casi D'altro lato però ha introdotto strategie dannose Che, se sono approcciate con superficialità da parte dell'utente Possono davvero fargli male Infatti i malintenzionati Ogni qualvolta viene introdotta una novità Come in questo caso dalla tecnologia informatica Producono insane attività creative Che sono mirate esclusivamente ai loro egoistici interessi Ossia far soldi Non curandosi della debolezza altrui Anzi, sfruttando proprio la debolezza altrui Facendo leva sulla naturale legge del più forte Che in questo caso è del più sapiente Ossia colui che sa più informazioni Conosce più informazioni Ecco perché, come spesso dico Chissà domina nel bene e nel male Come disse lo zio Parker a Peter nel film Spider-Man Da un grande potere derivano grandi responsabilità Quindi è obbligo morale di colui Che è detentore della conoscenza e del potere Utilizzarlo nel modo più etico e produttivo possibile Ma purtroppo non è spesso così Ma come potrai far uso della posta elettronica? Beh, naturalmente per farne uso Dovrai usufruire di un servizio E per usufruire di questo servizio Dovrai possedere Un dispositivo informatico Un computer Un tablet Uno smartphone Una connessione ad internet Un account Detto anche profilo Di posta elettronica Questi sono gli essenziali Potresti anche avere Se tu vuoi Un client Quindi un programma Di posta elettronica Per la sua gestione Se sei a questo punto Naturalmente i primi due requisiti Già li possiedi Ma un account di posta elettronica Probabilmente lo possiederai E altrimenti Dovrai crearlo Per crearlo Dovrai rivolgerti A dei fornitori Di questo servizio Che ti permetteranno Di mettere a disposizione O gratuitamente Oppure a pagamento Un indirizzo di posta elettronica Che ti crea Uno spazio virtuale Di casella di posta elettronica In pratica La tua cassetta Della posta Fatta virtuale In essa Verrai rechipitati I messaggi Che riceverai Messaggi chiamati E-mail Che potrai Senz'altro leggere Anche se Oggi Lo spazio Messo a disposizione Dai provider Dai fornitori di servizio È dell'ordine Di qualche gigabyte È bene Cancellare I messaggi Che avrai Di volta in volta Lenti E successivamente È bene anche Svuotare Il cestino Della tua casella Virtuale Questo perché Insieme al messaggio Di posta elettronica Potrai ricevere Degli allegati Allegati Che possono essere Anche corposi Se sono dei file Se sono dei file multimediali Se sono dei video Se sono delle musiche Quindi con il passare Del tempo Potrai saturare Questa tua cassetta Virtuale E quindi ciò Ti inibirà La possibilità Di ricevere Ulteriori messaggi Quindi in sintesi Se non hai Un indirizzo Di posta elettronica Dovrai Crearlo Scegli uno Dai provider Che attualmente Sono a disposizione E registrati Nel suo sito Compilando alcuni Campi Tra i quali I tuoi dati Che sceglierai In piena libertà Di seguito Ti mostro Un mini elenco Di fornitori Di servizi A cui puoi Accedere Per creare Un indirizzo email Libero Alice Della Telecom Gmail Del mastodontico Google Fastweb Hotmail All live Della Microsoft Yahoo E anche Il social network Facebook Ricorda che questi Non sono i soli Fornitori Di questo servizio In alcuni Casi La creazione Di un indirizzo email E quindi Di un account È strettamente Legato Ad un contratto Di traffico Voce O dati Presso il dato Fornitore Tant'è che a volte Alla cessazione Di questo servizio Se tu cambi Fornitore Di telefonia Fissa Questo account Ti verrà Disabilitato E quindi anche L'indirizzo Di posta elettronica Ma non è sempre così A questa lista Direi che possiamo Aggiungere Che molte aziende Forniscono ai propri Dipendenti Un indirizzo Di posta elettronica La creazione Di un sito Anche Dà la possibilità Di creare Un indirizzo Di posta elettronica Come ho fatto Personalmente Con il sito Thegoodry.com Infatti Ho a disposizione Un indirizzo Definito come Info Per informazione Chiocciola Thegoodry.com Che deriva Appunto Dal sito Che ho creato E al quale Tu puoi Inviare Richieste O informazioni Che riceverò Direttamente E dal quale Posso anche Inviarti una risposta Per creare Uno o più Indirizzi E-mail Dovrai Registrarlo Online Come fare Accedendo Alla pagina Del sito Quindi Del provider Avrai Una zona Dedicata Alla posta Elettronica Chiamata A volte Mail Accedendo A questa pagina Potrai trovare O dei campi Che ti permetteranno Di accedere Al servizio Se già sei Registrato Quindi dovrai Inserire Il tuo indirizzo E-mail E la password E troverai Anche Un pulsante Verosimilmente Per la Registrazione Cliccandoci Sopra Si aprirà Una sezione Nella quale Dovrai compilare Alcuni campi Tra cui I tuoi dati Una zona Di tua competenza E libera scelta È Il nome Dell'indirizzo E-mail La struttura Di un indirizzo E-mail Di norma È così Costituita C'è Una parte Iniziale Definita Come parametro Nome La chiocciola Anche detta Et in inglese Il nome Del provider Quindi quello Che ti fornisce Il servizio Poi il punto E l'estensione Di dominio Il parametro Nome Lo potrai scegliere In tua piena libertà Ma non deve Per forza di cose Riferirsi A nome E cognome Potrai anche Utilizzare Un soprannome Delle sigle A tua libera scelta Se lo desideri Puoi anche Inserire Dei caratteri Oltre Delle lettere In numeri A meno Di limitazioni Imposti Dal provider Altra cosa Di tua competenza Naturalmente È la password Per accedere Al servizio Non renderla Banale Per evitare Che qualcuno La possa Individuare La scelta migliore Per la password È utilizzare Un misto Di numeri Lettere E caratteri speciali Se è possibile Oltre alle maiuscole E le minuscole So che Può risultare Difficile Poi ricordarla Ma sarà Altrettanto difficile Anche Craccarla Per i malintenzionati È come se tu Mettessi Diverse barriere Tra te Ed eventuali Malintenzionati È possibile Che tu col tempo Possa anche Dimenticare La password Di accesso Non ti preoccupare Perché i provider Prevedono Per il recupero Della password Una procedura Automatizzata In fase di registrazione Troverai Una zona Nella quale Ti verrà richiesta Una domanda Segreta Che ti permetterà Di recuperare La password Scegli O una Tra le domande Proposte E quindi Digita nel campo Sottostante La risposta Oppure Crea Una tua Domanda Segreta E la risposta Personalizzata Ad esempio Il tuo libro preferito Il nome di tua mamma Di tuo papà Di tuo fratello E sorelle E così via In alternativa Puoi anche inserire Un secondo Indirizzo E-mail O anche Un numero Di cellulare Al quale Il provider Invierà Un SMS Per avviare Il processo Di recupero Della password Sono tutti Strumenti Che Che permetteranno Che permetteranno A te Di recuperare Una dimenticanza E come dicevo Prima Rendere più ostica Un'azione Di malintenzionati Per renderti cosciente Sappi che esistono Degli strumenti Che utilizzano I malintenzionati Dei programmi Adatti ad individuare Le password Dei servizi Programmi Che sono anche Alla portata Di un neofita In alcuni casi Anche le guide D'uso Quindi Compresa di coscienza E senso Di responsabilità Decidi La tua password Dopo aver terminato La registrazione Di norma Avviene Da parte del provider L'invio automatico A questo indirizzo E-mail Che hai appena creato Il quale Ti comunicherà L'avvenuta Registrazione Al servizio Dovrai accedere All'account E leggerla In alcuni casi Ti verrà Richiesta Qualche altra Eventuale azione Hai qualche dubbio Su come decidere Il fornitore? Beh Se la utilizzi Come la maggior parte Degli utenti Quindi per ricevere E inoltrare E-mail Senza particolari Richieste Scegli pure Ad occhi chiusi Non perderai Molto tempo Nella selezione A meno che Tu non debba Effettuare Qualche specifica operazione In questo caso Sarà Tua cura Andar A ricercare Questa caratteristica Individuandola Proprio Tra i vari Fornitori Di servizi Quindi In sintesi Vai a cercare Un provider Che ti fornisce Questo servizio Gratuitamente In quanto Non ha senso Pagare Qualcosa Che puoi ottenere Gratuitamente Alle stesse condizioni Verifica Tutto al più Lo spazio Che il provider Ti mette a disposizione Per la casella Di posta elettronica Che ripeto Potrà contenere Allegati Ai messaggi Che riceverai Allora Siamo nella pagina Di accesso Alla zona Della posta elettronica Del provider libero Se tu già hai Un account Naturalmente Inserirai Il tuo indirizzo E-mail E la tua password Qui Cliccando su Entra Ma dato che Non la possiedi Dovrai registrarti Clicca quindi Sul pulsante Registra di ora E accederai Alla pagina Di registrazione In questa zona Avrai Notificato Dove Potrai utilizzare L'indirizzo E-mail Che ora Andrai A creare In questo campo Devi scegliere Il nome Simuliamo La registrazione Di un Nuovo indirizzo E-mail Lo chiameremo Thegoodry Chiocciola Libero Punto It Possiamo anche In questo campo Scegliere La nostra Password Che poi Ripetiremo Nel campo Successivo Come puoi vedere Ho una notifica Che questa Password È relativamente Poco sicura Magari posso anche Inserire Dei numeri E come puoi vedere Già migliora La situazione Poi Inseriamo Un nome E cognome Scegliamo Un nome E cognome Generico Giusto per Questa simulazione La provincia Di residenza Il comune Di residenza Della tua città La data Di nascita Mettiamo Tutti i parametri Non veritieri Per questa simulazione Il sesso Maschio O femmina Il tipo di account Che andai a creare Se privato O un'azienda Nel nostro caso Sarà senz'altro Privato Qui in questa zona Potrai scegliere La domanda Di sicurezza Che ti permetterà Di recuperare Con una certa Facilità La password Scegli tra queste Proposte Oppure Inseriscene Una Come ad esempio Puoi scrivere Il nome Del tuo sito Magari Cerca di Renderla Un po' Personale Per evitare Che qualcuno La possa Carpire Ovviamente Dai la tua Risposta Ed eventualmente Scrivi anche L'indirizzo email Alternativo Per il recupero Se vuoi Anche un numero Di cellulare Che ti permetterà Un miglior Recupero Della password Sotto questi campi C'è una zona Relativa Alle informazioni Facoltative A te La libera scelta Se inserirle O meno Ricorda sempre Che Qualsiasi cosa Inserirai Potrebbe Essere Utilizzata Dal fornitore Di servizio Per etichettarti Quindi creare Un profilo E dargli La possibilità Di inviarti Comunicazioni Commerciali Naturalmente Più o meno Necessarie Prima di terminare Nella zona Inferiore Dovrai Ripetere Il codice Captcha Che sarà Necessario Per dimostrare Al provider Che questo processo Non avviene Automaticamente Tramite Dei programmi Ma Tramite una persona Quindi Digita pure La ripetizione Di questo codice Eventualmente Non lo riesci A comprendere Perché le parole Risultano illegibili Clicca sul pulsante Per Cambiare I codici Dopo averli inseriti Dovrai Selezionare Altri campi Relativi Ad alcuni Condizioni Di uso Dovrai Leggere Le condizioni Generali Di contratto Dare Un'approvazione Specifica Di alcune Clausole Riportate Nel contratto A consentire O meno Al trattamento Di dati Personali Relativi Alla lettera E e F In questo caso Del contratto Quindi Seleziona Sì o no A tuo piacere Ed infine Clicca sul pulsante Registati In alcuni casi Ci sarà Un'imposizione Nella scelta Di queste Risposte A cui dovrai In alcuni casi Sottostare A meno di Un rifiuto Dell'accettazione Del servizio Questo per quel Che riguarda La registrazione Di un indirizzo E-mail Di libero Possiamo passare Alla simulazione Di un indirizzo E-mail Di fastweb Come puoi vedere La situazione Più o meno Non cambia Dovrai Inserire Il tuo Nomo utente Che corrisponderà Al tuo indirizzo Di posta elettronica Il tuo nome E cognome E data di nascita Anche qui Una password Che dovrà avere Almeno sei caratteri Dovrai Ripetere la password Per confermarla Così ti eviti La possibilità Di un errore Di digitatura Poi scrivi La tua domanda segreta E la tua risposta Alla domanda segreta Infine Il numero di cellulare Per recuperare I tuoi dati Se fossi già Cliente Password Seleziona Questo segno Di spunta Ed eventualmente Hai un altro indirizzo Di posta Elettronica E' conveniente Sempre inserirlo In questa zona Per recuperare Meglio E più rapidamente La tua password E al termine Trovi La zona Relativa Alla privacy Nella quale dovrai Come precedentemente Spiegato Accettare O non accettare Ed infine Cliccare sul pulsante Registati Terminiamo Questa spiegazione Con la creazione Di un indirizzo email Di google Quindi gmail In questo caso Non avendo Già un indirizzo email E una password Che successivamente Inserirai qua Clicca sul pulsante Crea account In questa pagina Dovrai inserire Come ormai Hai ben capito Il tuo nome Il tuo cognome Il tuo nome utente Che corrisponderà Ad un indirizzo email Che ad esempio Si chiamerà Thegoody Chiocciola Gmail.com Una password E una conferma Alla password Come ormai Ben sai Data Mese E anno Di nascita Il tuo sesso Il cellulare Per il recupero Della password Un tuo indirizzo mail Che già possiedi Sempre per Accelerare Il recupero Dei dati In questo campo Dovrai inserire Il codice Capta per dimostrare Sempre che tu Non sei Un programma Accettare O meno I termini del servizio Che ovviamente Dovrai accettare E poi cliccare Sul passaggio successivo Per terminare La registrazione Puoi ripetere Questa registrazione Su quanti provider Tu vuoi Altresì Potrai creare Un numero variabile Di indirizzo email Anche con lo stesso provider A te La scelta Gooder Alla prossima lezione Per iniziare Ad inviare Le tue email Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto